Get ready with baby! Ci prepariamo insieme perché stasera si va a ballare! Però da quel che ho capito non si ballerà la tecno, penso commerciale. Ma tanto con le mie bebe si riesce a ballare tutto. Prima di iniziare a truccare mi metto rimpolpante nel frattempo. Anche oggi voglio fare un trucco che ho visto a Kylie Jenner, la mia anima gemella, amore grande. Mettiamo un nero grigino alla fine dell'occhio. Goccio di correttore all'interno, sfumiamo. Sopra mettiamo un illuminante freddo. Mettiamo la matita nera sotto. Infine sporchiamo anche fuori e lo sfumiamo. Ma riprendiamo dopo, adesso ho anche aggiunto la codina. Prima ho visto un video di una mia fanpage. Il fattore mix della canzone sono la più bebe. Ho messo la mia voce. Però sono contentissimo che siamo tantissime bebe! Sposito saremo in tanti stasera. Un touring bello marcato. Sfumiamo. Sto pensando a cosa farmi da mangiare. Prima di uscire devo cenare, però non so mai cosa mangiare. Perché alcuni dicono che durante le serate è meglio mangiare leggeri, mentre altri sono l'opposto. So solo che quando torno dalle serate poi mangio di nuovo. In realtà è il momento più soddisfacente della serata. Andiamo a fare baking. Nel frattempo andiamo a sistemare i nostri furetti. Andiamo a riempire. E le fissiamo. Bebe! Abbiamo solo questa parte perché intanto facciamo le labbra. Contorno le mie labbra. Applico una tinta labbra e la sfumo con le dita. E del correttore al centro. E infine un gloss. Sfumiamo tutto. Un goccio di blush. Illuminante e su un lasino. Però sfumo bene l'occhio. Ho già messo eyeliner. Adesso mettiamo il mascara sopra e sotto. Infine spray fissante. Come outfit ho fatto questo jeans nero con questo toppettino marrone. Borsetta nera. Seriva e spartosigì.